I piani di evacuazione di questi comuni ci sono, vanno verificati, vanno aggiornati, io è il tema sul quale in continuazione mi impegno e se vi è andato a vedere anche sabato scorso eravamo dal Papa, abbiamo fatto un incontro preventivo, io ho parlato molto dei piani di protezione civile che devono essere aggiornati, devono essere conosciuti, devono essere costantemente vissuti dalla popolazione. Sicuramente questa è una faglia conosciuta, nota, nel 1984 c'è stato un fenomeno simile, quindi c'è da avere un comportamento prudente in queste zone, quindi noi dobbiamo fare di tutto per evitare una cosa del genere, a partire dalla prevenzione strutturale, dalle costruzioni delle nostre abitazioni.